Ma quanto è figo sto monopattino lo voglio anche io Oh minchia si sono andati vicini al contatto Oh ma quanto cazzo sta a camminare sto camionero Fra minchia il turbo Ma butta sotto quei due Ma è tipo una sarron questa Che capata bello il contromano tanto giustamente stanno ammannato guarda l'abilità proprio sto fratello cazzo, se devi sopassare almeno dire che andanzi non c'è nessuno che fa chi sta? fa una parcheggiatura abusiva vieni da ingazzare fratello è originale, è diverso ti ho visto un attimo dentro ma non è Giovanni quello, da quando Giovanni sa impendare? no, non è Giovanni, è Filippo, è Filippo vestito da Giovanni ma non si riesce a capire un cazzo porco dio porco dio no vabbè si è Filippo, non pensa che Giovanni dal non saper impennare passi a quello in due settimane oh Giovanni, Giovanni ma da quando sai impennare? no, no, ho imparato ma va a cagare che animale è impazzito completamente questo no ma che cazzo ma in quanto alla Valentino Pezzi sono bucati need for speed oddio che paura, pareva una cristiana aia, ci rimanerà una mossa o no? ozzi si bella fra eh, impennata, non si fa ma si fermeranno a rosso, avete un seco ecco vabbè manco il tempo di fare la scommessa pensavo a mi potesse salutare, abbiare la sigaretta e male mamma mia andre 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 oh, io torno indietro io torno indietro, faccio il content sta registrando, si che dobbiamo fare? tu hai portato tu? eh, si, ti ho chiamato io eh, sto fine dei giochi ce l'ha mai e vabbè anche anche il titolo l'abbiamo fatto anche oggi e anche oggi il titolo ce l'abbiamo la copertina pure ammo fare di casa e due volanti addirittura eh bro eh bro ci siamo passati tutti ehi, ma poi, ho dato quella targa come penso alza ma com'è bello quando ti metti il casco domani che faccio lo shampoo è tutto bello buonasera, questo è il video di Cova no, questo, non è l'intro falla bello, mettiti più al centro buonasera benvenuti in un nuovo video di Cova oggi porteremo la simbota oh, oh, oh sta diventando sempre più brava a furia di fini sì, non torna il muro, l'ho preso ho sfornato tutto, fratelli ho preso il muro, fratelli ma che cazzo abba, ma fra stai prendendo? sì seguitemi su YouTube alzai video col cazzo no, no ma cioè, questi hanno davvero lasciato un crf a Napoli così, in mezzo alla strada follia ma come cazzo è possibile che su un'intera carreggiata orco cioè, su un'intera corsia non c'è una e dico una parte di strada dove non ci siamo fossi ma come cazzo è possibile? madre mamma mia mamma mia, l'ho visto nella macchina quello oh, adesso puoi ehi, buai vai, 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 vai c'è la curva, brodi bella madonna oh, 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 vecchio l'ho visto un attimo male ma come cazzo sta guidando il brum? quanto è incazzato come motore, però, mamma mia oh, madonna, anche io mamma mia, vai, no no, vedi, no, così no così non è più divertente uscire in gruppo e poi mi stavo ammazzando pure io perché mi ero distratto a vedere lui bravo, bravo però lì ha sbagliato ah, mi sono schiattato una palla ah, mamma mia, che brutto che brutto vai, vai, metti il gomito a terra Matteo, metti il gomito a terra vai, vai col ginocchietto, vai comunque fanno troppo ridere i motardi guidati col ginocchio io, come al mio solito, devo stare dietro al due tempi perché se no non sono contento no, voglio, cioè, mi voglio proprio male, capito? voglio proprio morire con tutto sto fumo nei polmoni oddio, questo lo devo censurare si, fra, però, magari quando le macchine frenano anche no eh, l'amato aia, aia, aia e mo, mo si mette il turbo, mi sa mo ti devo scurare mo ti devo scurare la targa per forza spero di no perché non c'ho voglia di censurarla non fa cazzare, non fa cazzare ce l'abbiamo rischiato troppo ma Matteo che cazzo ha il culo? ho la maglietta che trema è un continuo tremolio ma che c'ho l'epilessia aaaaa fa rivedere un po' l'atterraggio però non male, dai porco a me mi brucia proprio se esce la fiamma fammi fa un po' più avanti eh no, eh no eh ma che l'ha estruso perché non potrebbe andare dritto stufratururuzzo stufraturuzzo stufraturuzzo ma io non lo pò io stai prendo un culo ahahahah guarda guarda come sta tutto tutto ingrippato ahahahah e noi diciamo vai vai ma? ma? palesemente rubato palese proprio c'è che cazzo lo lasci un motorino in mezzo a nulla sulla tangenziale non lo sapevo chi si era in casa senza fricci io ormai ho imparato a capire subito le intenzioni della gente bene o male ma che stai mi sapi? c'è boh dove è sponata? ragazzi prima che si scarica la gopro ne approfitto per salutarvi si so che questo video era per la maggior parte di notte ma mamma mia mi dimentico sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina molto importante perchè youtube non manda le notifiche quando escono i miei nuovi video lasciate un bel mi piace a questo video e se siete arrivati a questo punto del video commentate con FIUNA proprio così FIUNA vi ricordo di seguirmi anche su instagram e tiktok perchè lì pubblico dei contenuti e aggiornamenti in tempo reale che non metto qui su youtube e niente noi ci vediamo al prossimo video bella ragazza ciao 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 ciao